Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, ecco l'ennesimo video dedicato ai prodotti finiti, un paio ve l'ho già mostrati ma voglio inserirli qui perché voglio fare un video dedicato ai prodotti finiti, verdi, tutti verdi. Penso che sia un modo un po' più carino, più simpatico di gestire il video dei prodotti finiti, quello per tema, per marca, in modo da smaltire i prodotti in maniera un po' più veloce, anche più divertente per me perché comincio ad odiare il video dei prodotti finiti, li accumulo per troppo tempo, rimando per troppo tempo appunto il girare questo tipo di video e quindi eccomi qua. Allora ho schiarito un pochino la risoluzione, ho messo un filtro che rende meno calda la ripresa, non so come verrà, fatemi sapere voi. Allora voglio partire subito da un prodotto verde che ho comprato dieci anni fa probabilmente, usato poco e ogni volta che provavo poi a utilizzarlo comunque mi dava fastidio, è una delle vecchissime pastello di neve, questa si chiama Bosco, è un color verde-azzurro molto bello, io pensavo fosse un po' più scuro in realtà, non riesco a mettere a fuoco, pensavo fosse più scuro come tipo di colorazione, adesso ve la swatcho, è quasi più un azzurro, è un verde molto particolare, un verde azzurro come se fosse un verde acqua molto molto scuro, non mi fa pensare assolutamente a un bosco, l'avrei chiamato più acqua, mare, non mi fa pensare al bosco questo colore, l'ho getto perché ho provato a riutilizzarla ultimamente con non so con quale coraggio, infatti mi bruciava gli occhi, ho detto Giulia ma come ti è venuto in mente, perché non l'hai buttata anni fa? Perché c'ero affezionata, era forse la prima pastello che ho comprato, una delle prime, ed era comunque un bel colore, ciao pastello ciao! Poi voglio parlarvi di questa crema che mi è piaciuta veramente tanto, tant'è vero che l'ho qui c'è una versione un po' più piccolina, è la Skin Food Light, mi pare fosse anche questa light, non mi ricordo, per pelli secche ho provato anche proprio la Skin Food la prima, la confezione mi pare un pochino più scura, però era veramente super super grassa, tra virgolette veramente super protettiva, super intensa, un po' troppo per quanto riguarda la stagione primavera e quindi poi in primavera alla fine dell'inverno mi pare in primavera acquistai queste, sono due taglie diverse, questa è una 30 ml mentre questa è un 75 ml, è una crema che mi è piaciuta, che sicuramente riacquisterò probabilmente in autunno o in inverno l'unica cosa che non mi piace tanto di questa crema è la profumazione intensa di agrume, di limone, che a me non fa impazzire ecco l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto scusate sono andata a prendere un'altra cosa verde che ho terminato e che avevo dimenticato ed è questa crema doccia veleda della linea Citrus non è una linea che mi piace più di tanto, questo mi pare sia stato un regalo, non ricordo 200 ml di prodotto, tra l'altro latte, bagnoschiuma, quelle latte diciamo non è che mi fanno impazzire la profumazione era un po' particolare, sembrava quasi scaduto anche se in realtà la scadenza qui dice novembre 2022 io vabbè l'ho utilizzato al mare a luglio comunque non è un bagnoschiuma che mi è piaciuto più di tanto si lasciava la pelle idratata però la profumazione non mi ha fatto impazzire proprio in generale questa linea non è una delle mie preferite invece uno dei miei prodotti preferiti dell'ultimo anno, dell'ultimo periodo, degli ultimi mesi è questa maschera, l'aloe, della Organic Shop all'aloe bambù, l'ho anche ricomprata, ve l'ho mostrata nel video dei piaciuti e riacquistati ed è una maschera stupenda se vi piace l'aloe dovete provarla assolutamente ma in generale penso sia una maschera veramente rinfrescante, idratante, ricostituente soprattutto per le pelli sensibili che hanno avuto un'esposizione al sole, al freddo soprattutto al sole, secondo me è veramente un'ottima maschera dopo sole veramente vi aiuta tantissimo, super promossa, non costa niente, costa veramente poco e spesso anche in offerta un'altra crema con aloe e acido di aluronico ultra ricca 24 ore, sempre un prodotto verde della Forzan il 50% di aloe bio, purtroppo la confezione è di plastica il packaging è il classico 50 ml come la maggior parte delle creme viso non costa molto, costa sugli 8-9 euro è una crema buona anche se la marca non è molto famosa ma è una crema che a me è piaciuta tanto è ricca, idratante, è buona sia per il giorno che per la notte quindi è vero 24 ore abbinata ad un siero, ad un, non lo so, un prodotto, ad un olio oppure anche a, non so, tipo collagene vegetale, vitamina C è veramente buona quindi ve la consiglio è un altro prodotto verde un prodotto che non riesco a capire se mi è piaciuto o no ce ne è rimasta un pochino, l'ho messa adesso sulle mani è questa crema mania, Vilea con aloe vera bio nutriente, non è vero la reputo forse più idratante che nutriente non ha alcol è vegan, è nickel tested questa qua l'avevo presa tipo 1 euro 1,50 euro da Ticotà perché mi piaceva questo formato piccolino da portare in borsa però è super liquida il tappo tra l'altro era, era molto particolare perché era, la trovate praticamente tipo così una cosa del genere insomma andava, andava rotto e, non ricordo come era fatto andava rotto, infilato, in qualche modo piattissimo questo tappo scomodo da, ehm, riabitare con una mano sola quindi lo lascio così crema, boh niente di particolare Dentabs, buono se volete prendere un prodotto solido per i denti queste sono delle tabs è buono però noi siamo ripassati ai dentifici classici perché soprattutto quando andavamo di fretta vedevamo in alcune situazioni che non lavava benissimo i denti però è una buona alternativa è anche vegan è una buona rinfresca abbastanza rispetto alle tabs classiche o comunque quelle di quelle che si trovano in commercio questa è quella che mi è piaciuta di più finora un altro prodotto verde, carino da poter provare se vi va per fare meno plastica un prodotto che vi ho già nominato nel primo video definiti di questa di questo periodo è questa Ananas Cell dell'erbolario una crema che mi è piaciuta tanto è stata una delle preferite di gennaio e quindi ecco ve l'ho messa qua e l'ho usata insieme ad un'altra crema invece all'avocado che adesso vi mostrerò perché me la sono dimenticata anche quella è verde eccola qui queste due le utilizzate questo inverno due creme bomba usate insieme questa super nutriente idratante puoi fare un bel massaggio buona profumazione porta sia adratazione che nutrimento alla pelle la lascia compatta veramente un'ottima crema con olio pressato a freddo al 100% e l'abbinavo insomma a questa crema qua che utilizzavo prevalentemente di sera o al mattino insomma decidevo un po' un attimo però forse più di sera la utilizzavo questa crema qua e questa abbinata di prodotti verdi mi ha accompagnato questo inverno ve la segnalo questa accoppiata perché buoni prodotti la utilizzare insieme poi ho voluto provare in offerta questi assorbenti io li utilizzo prevalentemente di notte perché c'ho la coppetta c'ho anche lo slip ormai mestruale anche se mi sta un po' stretto alla vita l'ho usato l'ultimo mese l'ho usato poco però non era male la superficie forse era un po' troppo di carta però niente male costava poco questi tra l'altro sono compostabili quindi sono biodegradabili e compostabili una cosa positiva della Lines e ve li segnalo se ancora non li avete provati invece un bocciato è sicuramente questa linea di cerotti Farmaline sono cerotti assortiti sono non mi ricordo che c'hanno in bambù compostabile quindi non sono in plastica in pura cellulosa adesivo certificato ma praticamente si attaccano non si staccano più lasciano tutti i pelucchi o pelucchi che dir si voglia non mi sono piaciuti no burrilabbra ve ne menziono tre sono tutte e tre verdi il preferito buonissimo di questo periodo è questo al verde all'avocado poi c'è questo Himalaya che è un buon compromesso se non ci avete a disposizione negozi che vendono prodotti veramente naturali però questo non è male è molto molto ricco con burro di cacao è molto intenso bello burroso molto invernale e questo classico idratante protettivo vi verde coppio che è un classicone ci piace costa poco quindi questi tre sono i prodotti verdi per le labbra questo è un sapone naturale oliva e vaniglia mi è piaciuto molto del saponificio acqua viva è vegan quindi comunque mi pare ci sia l'olio di non ricordo ci vedo buono questo questo sapone mi è piaciuto quello che adesso invece in bagno non mi piace per niente ha una profumazione sintetica non lo so veramente super forte invece questo era abbastanza delicato mi è piaciuto anche per il corpo poi questo braccialetto che aveva Sofia si è fissata questo braccialetto verde le piaceva tantissimo la profumazione di citronella pensato a Martina perché a lei piace la profumazione di citronella Martina Angolino Magico io non l'amo particolarmente non è che mi fa schifo però non è che l'amo più di tanto però il braccialetto devo dire che non era male doveva essere efficace per tre settimane ma non è vero assolutamente sgradito alle zanzare non lo so perché comunque l'hanno punta quindi non so che dirvi se i braccialetti non lo so fino a che punto perché comunque lo mette al braccietto però al piedino te lo ritrovi la zanzara la puntura non lo so 1,50 euro buttati al vento e questo olio di eucalipto di questa marca che non conosco del Diem mi ha regalato Titiana grazie Titiana perché a me piace tantissimo l'olio essenziale l'olio essenziale di eucalipto lo uso soprattutto per rigenizzare i panni della lavatrice e quindi ecco qua l'ultimo prodottino verde sicuro ne troverò altri però intanto ho girato questo video poi inserirò altri prodotti casomai con un altro tema vorrei fare quello dedicato ai capelli li sto caricando tutti insieme ecco qua tutti i prodotti defunti ciao e alla prossima